Celebrare i 150 anni della sua fondazione allo stesso tempo e rendere omaggio a Dante Alighieri nel settecentesimo anniversario della morte, perché la cultura è il valore aggiunto nel nostro paese e la Banca Popolare di Sondrio, con gli eventi in programma il 30 settembre e il primo ottobre prossimi, intende sottolineare il suo ruolo di operatore culturale. Dal 1971 propone conferenza aperta al pubblico con i relatori di spicco. Nel 2007 aprì le porte alla Biblioteca Credaro, che ha curato l'allestimento della mostra Dante Qui, visitabile dal 1 al 23 ottobre, nell'ottocentesco Palazzo Lambertenghi, l'inaugurazione giovedì 30 settembre alle 21.30. La mostra riunisce per la prima volta le opere d'arte, i manoscritti e i documenti bibliografici posseduti dalle Biblioteche Credaro e Pioraina, dal Museo Valtenesi di Storiarte. Spiccano, fra le opere che verranno esposte, tre preziosissimi codici miniati dalla Divina Commedia del XIV e XV secolo, i disegni poco conosciuti sulla Divina Commedia realizzati intorno al 1830 dal pittore sondriese Angelo Ligari, conservati al Musa, i volumi danteschi di Pioraina provenienti dalla sua Biblioteca, oggi alla Civica di Sondrio, come gli scritti su Dante dell'erudito settecentesco valterinese Francesco Severio Quadrio, un'inedita lettura d'antis manoscritta tenuta nel 1903 alla Dante Alighieri di Napoli dal letterato morbenese Guglielmo Felice Damiani e gli studi manoscritti a stampa su Dante del chiavennasco Giovanni Bertacchi. Il giorno seguente, il primo ottobre, al Teatro Sociale di Sondrio potremo seguire Dante di Valtellina, evento ideato organizzato dalla banca che gode del patrocinio dell'Accademia della Crusca e dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani. Si articolerà in due momenti diversi, entrambi coordinati dal professor Francesco Sabatini, notissimo linguista e presidente emerito dell'Accademia della Crusca. Al mattino, dalle 9.15, è previsto l'incontro con gli studenti delle quinte classi superiori. Al pomeriggio, dalle 15.15, il convegno sugli universi di Dante. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione da effettuare sul sito www.popso.it, così come il Green Pass.